Ciao ragazzi Grazie di essere qui con noi oggi Oggi sono qui con Federica del canale Feri ASMR E oggi ci siamo trovate apposta per voi Per fare un video con diversi suoni E niente, oggi parleremo un po' di suoni E spero vi rilassiate Non puoi relax, indossate le cuffie mi raccomando Mi raccomando, come me E non come me Ah, io adoro questo pallino La portata, questa la la te la Ah, sul canale di Feri troverete la seconda parola di questo video Con altri suoni Con altri suoni, sempre noi due però Tra parentesi su Instagram ho fatto tipo una storia in cui dicevo Farò presto una collaborazione Tutti erano decisi fra Elle, Daisy e te Che bello Io, ma, chi lo sa, grazie per avermi pensato Tra l'altro le persone, molte non sanno che noi abbiamo già fatto delle collaborazioni insieme E' bellissimo E perdonate anche un po' il traffico e le varie cose Ma non siamo nella città, né di una, né dell'altra Ci siamo trovati in una specie di via di mezzo E questa è casa del mio ragazzo Ma comunque secondo me è molto silenzioso in realtà Se il frigo farà il bravo Sì Altrimenti sentirete il rumore bianco del frigo Senti il cucolo? Il cucolo? Cos'è? È un uccello Non lo sento Sono indecisa se sia un cucolo o un cufo È un cufo di realtà È un uccello Qui siamo in un mondo senza tanto Adesso è perso le tuccello che sento sia Sì, è un po' l'anno in questo posto Comunque dovete sapere che io questa pallina qui, cioè Ne sono ossessionata Del suo video C'era tipo No, ti prego quella pallina È spettacolare Dai, te la regalo l'ossima volta se la ritrovo Forse la trovo anche da Tiger, non lo so Io da Tiger l'ho presa Però non so perché non l'ho più ritrovata Perché ricamino sempre Sì, hai ragione Ed è fatta Che figo, questo suono è bellissimo Ce l'ho io Lei si è scelta tutti i suoni Mi ha lasciato gli scarti, sappiatelo Vero? È tipo, è fighissima perché c'è tutte queste Spice di berline trasparenti Peccato che sì, ve la faccio vedere così la vedete sfogata Però, insomma Allora, il topic lì sopra Sì Ah, bellissimo Pazzesco Poi scriveteci nei commenti se siete riusciti a provare ASMR E quale suono vi piace di più? Mio E suo Secondo me il tuo sarà il fiore Per me Cioè quindi gli altri non sono Che secondo te? No, è il mio preferito Il tuo preferito dei miei Devi aspettare di sentire gli altri Eh, ma vedendoli su qualche È bellissimo Bellissimo Bene, allora Proviamo ad appinare il fiore a un'altra cosa E poi cambio pure io E poi Allora mi metto a disegnare un fiore Ho questo meravigliosissimo quaderno In cui proverò con le metodie artistiche Disegnare una bellissima Mi senti disegnando? Sì, è molto schifo disegnare No, no, no Sono disegnata Proprio No Mi viene anche piaciuto Guardi quello Come, è bellissimo No, no, no Non scappate Com'è? Mi suona? Sono bene insieme Vabbè, cambio pure io Una cosa fantastica È bella, bella Praticamente questo È un profumo Anzi no, un'acqua profumata Al cocco Non vi posso spiegare Quanto sia buono Tipo esistono due tipi di persone Le persone che odiano il cocco E le persone che vivono Tipo per il cocco È vero Tipo il mio gatto vive per il cocco E' vero E' vero Gli piace Che risura Che risura Nella sveva non lo so Comunque Vedi, palesemente Io non posso disegnare Comunque si disegna la cosa Comunque stavo dicendo Che questo posto In realtà È molto silenzioso E che se tu venissi a registrare Dove registro io Pazzirei? Pazzirei Sì, no? Pazzirei sicuramente Infatti nei brutti si vede che impazzisco No, no, no Non li sono morti i rumori Praticamente io pretendo che le persone non vivano Mentre ce li vanno anche io Infatti li dico sempre con la vicina di casa E io, cioè i miei suocini Non sarebbe carino dirgli su Registrare da casa loro Intenzione Sono anche carini in realtà Che cercano di non far casino Sinceramente Sembra più un tulipano Un po' pavero Tu cosa ci vedi? Non una rosa Scrivete nei commenti cosa ci vede Tipo psicologo Tu cosa ci vedi? Una macchia di Rorschach Allora Intanto Affiancando Al buono al cocco fantastico Questo No, non posso dirvi che cosa è Cioè Levo tuse È una cosa per la tuse Produrrò Un suono molto più carino Utili Bene Scriviamo qualcosa a caso Lush Crush Facciamo che ti vuole indovinare Che cosa stai scrivendo È un po' difficile Puoi dare degli indizi Che buona la mattina Nuovo drinker Eating pencil Salissimo Ok Adesso scrivo Il nome Di una nota Casa Cosmetica Sì Devi dare qualche indizio in più però Vabbè cosmetica Trucchi Trucchi Che si trova A Ticota anche Ma si scrive così Tra parentesi Con due L Con due L Sì sì Con due L Ci sono due L All'interno Della parola Ma dopo lo svegliamo Vediamo se è indovinata È molto famosa Tra parentesi È composta da tre parole È vero Adesso vi do un altro indizio Lo posso spruzzare Spruzzata sul microfono Ovviamente Spera il motore di cocco Sto mi hanno trocato Comunque è È una marca Che il suo nome è composto anche da una città Molto grande Scrivetelo nei commenti Però non vale scriverlo dopo Dovete scriverlo adesso Adesso Sì Cambiamo Cambiamo Ma che maraggolo Allora Io cosa vi ho Vabbè faccio non stare Anche lo scolto Che è bello Sì Allora Io adesso Guarda Sto davanti Sostante che si appiccica Tipo non abbiamo ancora capito Se sia sale O zucchero Sì 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 Sento l'odore Non so Quando io ero piccolo Mi sono Una volta Con una mia amica Nascosta sotto il tavolo Della cucina E abbiamo mangiato Un parattolo intero di sale Oddio Poi abbiamo comitato Anche secondo me Di cosa sembra di bubiozzo Sulla finestra Voglio un po' Di sale Voglio ma la maschera hai scelto te? non l'hai scelto? è stata scelta non la sceglierò io però lo faccio dopo senti? sento solo la mia ma perchè io ho un oricolore perchè? quasi tutto quello che stai facendo io non lo senti? va bene? si si te ce lo regalo grazie cosa dicevi prima su non far cadere il sale? cosa dicevo prima su non far cadere il sale? si mi sono tipo mezza tormentata mi sono tipo mezza tormentata mi ha derrotto tutta la magia ok comunque tipo non so se hai presente ci sono due ragazze rosse e che abbiamo fatto anche un video insieme tipo palesemente per voi e io non so cioè non ti imbarazzo in due cioè star lì palesemente provocando cioè proprio non lo so non l'ho mai fatto non so se mi imbarazzerete però non mi piace cioè probabilmente mi imbarazzerete anche in una cioè tutte mezza notte tu dici che il problema sia in due ma pure anche da sola hai capito? però in due ancora lì forse non ti imbarazzerete anche allora 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 ho un video ASMR sarà scritto ASMR potrò così capito? bene poi io però vuoi fare spoiler di quello che troveranno sul tuo canale? no voglio spoilerare questo qua ma lo troveranno? va bene facciamo uno spoiler andate adesso sul mio canale ci sarà il link che immagino questo asilo per la seconda parte di questo video dove troverete tra le altre cose anche la mascherina fantastica ho insistito per averla in questo video grazie grazie per esservi rilassati con noi e adesso mandiamo un po' di buonanotte te la puoi mandare? certo buonanotte 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 dormi sogni duro buonanotte 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 che li spera ciao ciao